Buongiorno sono Marco e cosa posso aiutarla? Buongiorno sono Sara e cosa posso aiutarla? Buongiorno sono Fala in che cosa posso essere utile? Posso essere un attimo? Posso essere un attimo? Posso essere un attimo? Essponde all'operatore 2759 in cosa posso essere utile? Mi chiamo Chini Marco, lavoro in un call center Si riparano armi di tipo intelligente Sono veramente certo, non durerà per sempre Io caro presidente, il futuro corta niente Ho consumato libri, trovato e perso il senso in un'ambulice equilibrio Non calcolando il vento, non calcolando il tempo Lo sento che sono stanco di sorridere per forza Dilludere la gente che il telefono mi ascolta E sono bravo, e sono bravo Rendo ogni giorno di più Come uno schiavo, come uno schiavo Bravo, bravo, non mi accolto Finché non servo più Mi affricce le orecchie la voce di chi offende Sono diventato il filtro dell'aria che si vende E questa giungla inghiotta e speranze e desideri Mi consuma la terra che trema sotto i piedi Lo sai Vivo ancora con i miei a trentun'anni Fa paura il mio futuro Che poi è quello di tanti E sono bravo, e sono bravo Rendo ogni giorno di più Come uno schiavo, come uno schiavo Lavoro non si conto Finché non si perdono più Sotto i soli cretano le illusioni Quante voglie Stringono le mie mani E non mi mando Fermo a guardare Mentre abbondiamo qua giù Finché c'è vita Da camminare Più le tante gli occhi Chimi su di noi Mi chiamo Chimi Marco Lavoro in un consente Si dedicano anni a restringere la mente Ora mi rendo conto, mio caro presidente Che dietro al suo sorriso C'è un modo indifferente E che il mio unico futuro Oggi non vale niente Grazie 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 Grazie